Oggi, talk show del miglior film, gli ultimi... tutti gli anni in cui è esistito il cinema. Morbius, che sta andando una bomba al box office, sta distruggendo tutti i record, acclamato da pubblico e critica. Bel film, bello tutto, belle post-credit, le migliori mai create. Non vediamo l'ora che l'universo si espanda ancora di più, con nuove leggende Marvel. E grazie a Teresa per la sua recensione di un ottimo film visto al cinema. Questo è il programma del giorno, e poi parleremo anche di altre cose, altre cose varie. Oggi è un po' più monotematico, talk show. Prossima settimana, sperando di riuscire a farlo, sarà un po' più variegato, anche se avremo da parlare magari di animali fantastici. Poi vediamo. Di settimana in settimana comunque affrontiamo gli argomenti che ci sono. Primo ospedino del giorno, ed è proprio lui, l'unico inimitabile, Mattia Matioschi. È sempre preciso e puntuale. L'hai visto, puntuale come le tasse. Sempre il primo, esatto. Proprio preciso, preciso. Come va? Salve a tutti. Ciao, buon pomeriggio. O sera, te cosa diresti alle sei? Ogni volta me lo domando. Buonasera. Buonasera. In teoria le regole del bontoni implicano che da mezzogiorno in avanti, buonasera. Da mezzogiorno? Sì, sì, sì. Scusa, passi dalla mattina alla sera, il pomeriggio non esiste. Esatto, cioè se noi ci incontrassimo alle tredici, buonasera. Oddio. Non so dove l'avevo letto, magari in un sogno mistico. E la mattina quando inizia? La mattina inizia dalla mattina. Credo che da mezzanotte in avanti, buongiorno. Cioè se ci vedessimo a luna di notte, buongiorno. Capito? Ah, fino alle dodici. Ciao Mark, sono alle diciotto, come ci saluti? Eh? Eh? Che senso? Che, che, eh? Dai Mark, cioè non lo sai? No. Vabbè, ciao. Scusami, scusami, che senso? Cosa mi sono perso, no? Sì alle diciotto cosa diresti per salutare? Buonasera. Spero? Se ci incontrassimo alle tredici? Buongiorno. Invece sbaglieresti. Allora, io buon pomeriggio non lo dico mai. Ok. Anch'io. Manco io, però... Cioè io lo dico solo in... Io quando attacco la stream a quest'ora io ho il dubbio, faccio entrambi. Dico buonasera, buon pomeriggio. Perché non lo so. Vedi che però dici buonasera? Non dici buongiorno. No, buongiorno quello certo che no. Ok, via. Però tu metti la fascia pomeridiana. Più che altro alle tredici io non direi mai buonasera. Quello è vero. Che mi è strano, cioè... Quanto lo fai durare il pomeriggio, però. Eh, io farei fino alle diciassette-diciotto, eh. Eh, secondo me massimo diciotto. Cioè, diciotta andata. Diciotto e poi diventa sera. Ci sta. Eeeh... Eh sì. Ciao Vic! Cosa diresti per salutarci alle diciotto-dici... Eh, no, niente. Mi sono tradito. Buonasera. Cosa devi dire? Buonasera. E se ci incontriamo alle tredici? Buongiorno. Eh. Alle quindici? Buon pomeriggio? Ognuno ha una... Ha una timeline. Ma io non dico mai buon pomeriggio così. Oh, buonasera o buongiorno. Sono a posto. Me ne levo uno. Buon pomeriggio? È pomeriggio. È la notte? No, però non mi viene mai da dirlo. È buonanotte. Buonanotte. Buonanotte? Ma buonanotte, lo dite? In base all'orario o in base a... Se la persona con cui parlate va a dormire? Se va a dormire... In realtà buonanotte se sei una persona che incontri, tipo, è come nei programmi della radio. Che quando li fanno di notte salutano iniziando a dire buonanotte a tutti. Sempre. Non è sentito in vita mia. La direzione è un discorso. La direzione è quando fanno di notte, fanno buonanotte a tutti i ragazzi, iniziamo sempre. Io buonanotte lo associo veramente al... Sì, sì. Probabilmente è sbagliatissimo, però. Cioè, io quando faccio le trasmissioni in live di notte, dico buonanotte a tutti i ragazzi, sempre. Infatti poi il pubblico scappa e va a dormire. E subito, perché dice... No, però è vero, anch'io dico buonanotte è perché... Buonanotte. Eh, per me potrebbe anche essere a mezzogiorno, se sto andando a dormire. È inteso buon riposo. Sì. No, io dico buon riposo, non dico buonanotte se è l'uno del poveriggio. Io se facessi un programma di notte, benvenuti al programma di notte. E sbaglieresti. Benvenuti. Benvenuti. Linus ti farebbe un culo così. È bello parlare di Morbius comunque. Vero? Molto, molto bello, molto bello, molto bello. Parliamo di Morbius? Oggi parliamo di Morbius. Io continuerei comunque a parlare di cagate. Ma ho capito, aspetta, ma questo talk è su Morbius? Quanto pare. Quanto sembra. Non ti avevano informato? No, niente. Non era arrivato il promemoria. Buon pomeriggio, Victor. Lo sapevo. La kegs. Non gliel'avevano detto. Eh, grande Morbius, successone di critica e di pubblico. Box Office, che ho visto, è il peggior drop della Marvel nella storia peggiore di Dark Phoenix nella, tipo, seconda settimana di Box Office. Quindi, una bomba. Molta fiducia per l'universo Sony. Quanto è arrivato? Aspetta che controllo. È 100 qualcosa. Ah, sono comunque troppi. Quanti stanno? Quanto stanno? Ma io qui... 126. Vi dimostrerò che è bello. No, non è vero. No. No, a mezzo ci speravo, sai. Invece, invece, per dire che... Sonic ha fatto 141 milioni in un weekend. Io vorrei notificare... Sì, 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 sì. Ma io un pochino l'avvocato del diavolo lo farò. Un pochino. A Morbius. Vabbè, sì, ci sta. Ci sta. Non troppo, perché ho un po' di amore per me stesso. Sono curioso. Avvocato, vada. Se vuole iniziare a parlare, subito, può fare. Allora, è un film brutto. Ok. Perché è brutto. E basta, andiamo avanti. Mark? Buon pomeriggio. Cinematograficamente parlando è brutto. Però, da un lato, secondo me, abbiamo visto anche di peggio negli ultimi anni. E dall'altro lato, è un po' facile puntargli il dito contro. Quindi, un pochino mi sta simpatico. C'è quella dinamica della povera pecora nera, che tutti la guardano male, e allora ti viene da dire, poverino, ma magari, dai, fa simpatia. E poi, se dobbiamo analizzarlo punto per punto, non si salva nulla. Ma io un po' concordo su questa cosa, che un po' facile è parlarne male. Sì, è vero. Però, cosa vuol dire un po' facile? Cioè, se fa cagare il cazzo... Allora, questo mio giudizio non è tanto nei confronti della pellicola, che in effetti può essere distrutta, ma noto che c'è il pubblico che ha una voglia forsennata di parlarne male. Però c'è un motivo. C'è un motivo per cui c'è questa voglia forsennata, perché è l'ennesima volta che propongo... Cioè, qua è il pubblico che inizia un attimino a incazzarsi. Perché il pubblico lo puoi fottere, forse anche più volte di quelle che si può credere, per l'amor di Dio. Però arrivate... È vero che Venom è piaciuto alla fine, però comunque, secondo me, si inizia a sentire il problema. Perché Venom fa cagare e va bene, ma andiamola giù. Venom 2 fa cagare, ma andiamola giù. Al terzo, perché hanno tolto al pubblico l'elemento che gli faceva apprezzare Venom, cioè il divertimento. E comunque era sempre Venom, Vic, però, eh. Il personaggio Venom è sicuramente più apprezzato di Molaus. Qui c'è il colpo di scena, però. Vai. Perché i pochi che l'han visto, su un sito come Rotten Tomatoes, l'hanno votato bene. Ha il 70% di recensioni positive. Per quanto riguarda il pubblico, la critica l'ha distrutto. Ma il pubblico risponde bene. Quello americano che è diverso da quello italiano. Non così bene, giudicando dagli incassi, però. Ho sottolineato i pochi che l'hanno visto. Oppure i pochi che vanno a mettere il voto. Esatto. Infatti, per me, questo crollo devastante nel secondo weekend non è tanto perché sia brutto, ma perché forse il marketing non ha funzionato. Perché a ripensarci in seconda battuta, i trailer mettevano delle citazioni a Spider-Man che potevano far esaltare noi, che siamo appassionati. Ma la mitica casalinga, dubito che vedendo la prima pagina del Daily Bugle, oppure Michael Keaton anche abbastanza decontestualizzato. Perché noi lo rapportiamo al contesto e quindi l'avvoltoio. Ma vedendolo lì, che diceva... Però magari anche il passaparola. Io penso che anche tutt'oggi, magari pure il passaparola nel web. Cioè già prima che uscisse si sapeva tutto Spider-Man tagliato, tutte queste cose tagliate. Se la gente voleva andare anche per quei motivi. Forse. Però se ci pensi, i trailer, cioè se li giudichiamo come prodotto singolo, non è che fossero esaltanti. Fate conto che Matt Smith si vede nell'ultimo trailer due secondi. Quindi io mi immagino uno che magari vuole vedersi un film senza sapere dove è collegato, invogliavano i trailer, secondo me no. Non ti facevano vedere bene lui. Il cattivo non si sapeva se ci fosse. La romance che comunque è messa lì per far contente le ragazze, il pubblico femminile, o anche maschile, non è manco accennata. Non sono dei bei trailer, quindi secondo me tutto parte lì. In chiusura c'era anche la battutona, io sono Venom, che non dava robbio. Attenzione, io mi ricordo abbastanza distintamente che il primo piacque non eravamo poi così schifati dal primo trailer. Quello con la musica dell'Elisa, per intenderci. Però, sai, ti dico, come primo trailer andava bene, ma quelli dopo non sono più andati avanti. Da lì non hanno progredito. Infatti tutti gli altri... Anche perché poi magari lì è cominciato a subentrare pure il concetto che una volta doveva uscire quando doveva uscire. E poi nel mezzo, capito? Cominciamo a ragionare, ma quante volte l'hanno modificato? Per Venom, per Spider-Man, Kraven, dopo... Ma infatti è venuta fuori una... È un film chiaramente mutilato che hanno cercato di rimontare in base... Cioè, io... È quello che dico che succede un po' di tempo. Sì, allora, per me è veramente inguardabile il mondo. Cioè, ha mai fatto più incazzare ancora di Venom. Di Venom alla Furia di Carnage. Perché perlomeno Venom alla Furia di Carnage è brutto, però mi ha dato l'impressione che si fossero divertiti a farlo. È orribile, però per dire, io sono anche riuscito a trovare... Cioè, io ci ho fatto una recensione incazzata. Con Morbius, a me personalmente... Tipo, Calera è riuscito. Ma a me personalmente, con Morbius, non sono venuti in mente si pariette e cose del genere perché non mi stimolava, capito? Quindi, per me è un film che è brutto e basta e non ti fa neanche divertire nella sua bruttezza. È peggio di un film brutto che però ti fa divertire. Perché non ti lascia proprio nulla altrimenti. Per cui, il problema, secondo me, qua è che questa roba non è cinema. Ma non perché è un cinecomic. A me fanno incazzare quelli che ricordano che i cinecomic non sono cinema. Quello a me non piace. Non lo considero cinema perché questo è proprio un prodotto e basta che hanno preso, hanno assemblato, riassemblato, assemblato e riassemblato per farlo... Ciao Rob! Ciao! Per farlo tornare... Ciao Rob! Per farlo tornare con No Way Home e non ci sono neanche riusciti, tra l'altro. Solo perché No Way Home aveva incazzato un miliardo e 800 milioni erotti. E questo è uscito prima? Di No Way Home? Io mi sono fatto... Le scene post-credit sarebbero diverse. Io mi sono fatto delle teorie. Magari dopo possiamo aprire il vaso di Pandora. La voglia. Il 90% di quello che vediamo nel trailer della Voltoio non c'è nel film. Quelle per me erano le scene post-credit originali in cui doveva essere completamente diverso. Secondo me... Sai che però è difficile che fossero post-credit? Secondo me era nel mezzo. Morbius con la divisa da... Era nel mezzo, eh? Scusa, non è un po' scredito. Comunque erano le scene girate con Keaton. Sì, sì. Che non era... Erano... Sì, anche secondo me non era un po' scredito. Ma infatti qui la butto lì, già. Poi svilupperemo il discorso. Ma secondo me inizialmente Morbius non viaggiava dimensionalmente. Scusate, la Voltoio era già lì. Quindi Morbius era implicitamente nell'MCU. Teoria mia. Perché a metafilm non puoi far vedere il portale che si apre e questo che appare senza conseguenze sul plot. Secondo me Morbius andava in galera e lo incontrava. Anche secondo me. Peraltro l'effetto visivo del portale è aberrante. Si vede che è fatto paura. È appiccicato lì. Quella è modificata. Quella è modificata. Ma poi lui che non si fa a mezzo a bollare. Ma però, sta roba piace. È lui che subito dice la frase tipo ma qua si mangia bene. Quindi ha capito che ha viaggiato in un altro universo. Ma come lo capisci? Scusami, lui ha fatto una figlia. La moglie o l'ex moglie dipende. E lui la cosa che ti chiedi è... Motivazione per cui faceva quello che facevi in Oncoming. Vorrei far ricordare questa cosa. Io alla fine di questa diretta vi spiegherò il piano della Sony da qui ai prossimi cinque anni. Va bene, ok, ok, va bene. Non è vero. Ci arriviamo con... No, no, questa è una promessa. Questa è una promessa, è fatto. Sì, sì, sì. Devi spiegare Kraven, Madame Web e... Ci sto. Pose. Non mi ha più paura. E vi dico che adesso siete qui a denigrare Morbius ma tra cinque anni applaudirete al cinema. Non credo. Segnatevelo. Beh, ma non per Morbius magari, però comunque... Anche, anche. Magari applaudiremo in Morbius. Va bene. Quindi tu hai grande fiducia nei piani Sony? Qualitativamente no. Commercialmente sì. Che dici? Se fanno un film con Spider-Man dove c'è Morbius siamo tutti felici. No. Ma che vino? Dopo, dopo. Dopo, dopo. Ma in realtà... Andate che? Vai, vai, prego. Vai, Mark. Tanto io... Vai, Mark, ok. No, dicevo, in realtà non è tanto una questione di Morbius. Cioè, per esempio, letto come Morbius a me andava anche bene. Cioè, io nel trailer ero anche soddisfatto del... Quando c'è il primo piano su di lui a me va anche... È l'unica cosa che apprezzo del suo Morbius. In primo piano, vedi il faccione, gli occhi rossi, mi andava bene. Quindi in realtà rivederlo in un film come Morbius a me non è che darebbe fastidio. È che tu hai... Certo, Matteo. Però il film che tu hai usato per farmelo... Per farmelo... Per farmelo... Esatto. Non... Non... Cioè... È come se vedessi un combattimento tra Venom e Spider-Man. La mia parte fumettistica direbbe Oh, figo. Poi penso e dico a tutto quello che è successo alle galline, ai televisori rotti, dei film. Ai combattimenti che non ci capisco niente, li seguo solo perché fanno le scie. Ti smentisco. Come se stessero perennemente scoreggiando. Ti smentisco. È come se ci fossero tre Spider-Man di cui uno protagonista di due film disprezzatissimi. È... La mia parte fumettistica però ripenso e fino a non è vero. Quando sono tutti insieme non è vero. Garfield, adesso è diventato lo Spider-Man migliore di sempre. Tesoro mio. Ma speriamo che ne facciano altri venti di Amazing. Quando non c'erano Holland e viva che Spider-Man torna alla Marvel che di questo qua il poser non ne possiamo più. Questo qui è un fighetto, non è il vero Spider-Man. Che schifo! Adesso siamo tutti lì con i fuochi d'artificio. Speriamo che torni. Quindi ti smentisco. Quando faranno Venom contro Spider-Man tu sarai lì con la bava alla bocca e non penserai più alle galline. Magari perché lo picchia. Se lo picchia tanto potrei essere contento. Sai che per me l'idea è aberrante. Cioè ti giuro a me sicuramente lo faranno ma io non riesco a parte che io francamente il terzo di Amazing Spider-Man l'avrei sempre voluto per quante secondo mi avrei fatto schifo perché secondo me c'era del potenziale se scritto in maniera decente. Di Amazing Spider-Man ma sì sì. C'era la testa parlante di Norman secondo me noi l'abbiamo scampata bella. No, ma no. a schifo perché il secondo era brutto. Però a me il primo non era dispiaciuto. No, neanche a me. Non era un capolavoro ma peraltro è stato anche uno dei pochi film con un 3D che bellissimo 3D cazzo sembrava. Sì, all'epoca è vero. Orca troia. No, a me il film piacque però il discorso è che Garfield come Spider-Man funziona. È la gente che figato figato a me non dispiaceva come Spider-Man. Il problema è se mi fanno Garfield lo Spider-Man e Garfield contro Venom quello di Tom Hardy cioè per me tutto quello che contiene Venom è me. Cioè non riesco non ce la faccio. A me non gasa. Ma sì su quello siamo d'accordissimo però io personalmente lo andrei a vedere perché è il mio mestiere ma non sarei gasato per un cazzo. Ma poi c'è da dire c'è da dire che The Amazing Spider-Man non è paragonabile a Venom o Morbius vedi Andrew Garfield perché sono i tuoi Spider-Man i Spider-Man con cui siamo cresciuti tutti e ti gasi Spider-Man sì ma Venom è piaciuto è piaciuto ma quindi voi date per certo che Andrew Garfield sia nell'universo di Sony per me sì per me sì poi se la possono rigirare come gli pare come abbiamo visto con una scena post-credit però se devo vedere anche le scene che hanno tagliato e ci facevano vedere dal trailer sono più propenso verso dopo vi preparo la fase 1 del su ve la spiego nel dettaglio ah ma non sarà mai così però ok va bene ho visto ho parlato con Emi Pasquale e mi ha detto tutto al telefono secondo me tipo ogni volta che vi viene un'idea che potrebbe incassare milioni ci provano cioè è quello il discorso secondo me non è neanche una questione di avere un piano predefinito se all'improvviso la gente iniziasse a smaniare per il rhino di Paul Giamatti lo inserirebbero sì non credo verrà mai questa cosa però beh se andiamo verso un mondo in stile idiocra si può anche darsi però fino ad allora non penso e Mark volevi aggiungere qualcosa no Rob voleva dire Rob voleva dire Rob prima allora io sono d'accordo con voi quando dite che i piani sono cambiati in corso d'opera perché se penso alle scene mostrate prima e anche alle foto trapelate dal set secondo me pare piuttosto evidente che prima lo Spider-Man di quell'universo dovesse essere Garfield prima oggi poi lascerò parola Albuo Macchioschi che ho me già alla quarta però prima parte di Sony ormai sì sì è vero pronto più che altro perché il fatto che ci fossero i manifesti in giro dello Spider-Man che in realtà dicevano che era quello di Raimi in realtà era catturato dall'immagine del gioco per Playstation ma ancora dicessero sopra i manifesti Murderer il fatto che comunque sui quotidiani sulla prima pagina dicessero la gente vuole il rampicamuri dietro le sbarre il fatto che sull'autobus ci fosse sto cartellone che diceva Spider-Man is missing con un punto di domanda e la ragnatela su tutto il mondo a me aveva fatto pensare all'inizio non avevo pensato a Garfield ma quando ho sentito Garfield in A Way Home dire dopo la morte di Gwen io sono diventato più lento esattamente e poi dato che questo è un dato di fatto tanto Sony quanto la Marvel non ci hanno spiegato le tempistiche nel multiverso e come esso funzioni possiamo lanciare delle teorie però di base sappiamo che ad esempio Octopus sa il destino di Goblin Sandman sa il destino di entrambi il che significa che arrivano non solo dalla stessa dimensione ma anche da timeline differenti e dato che loro arrivano nel momento stesso in cui sono stati prelevati nel passato mentre gli Spider-Man arrivano nel presente chi mi può dire che in realtà Spider-Man è scomparso perché sappiamo quando è stato preso ma non sappiamo quanto è stato via del resto io ricordo anche John Watts che ha detto abbiamo delle risposte che volevamo inserire a tutte le domande sul multiverso ma tanto Sony quanto Marvel hanno detto che non aspettava a noi darle sarà compito di qualcun altro fornirle anche perché avrebbero distolto l'attenzione dalla potenza del finale e la potenza del finale è oggettivamente con tutti i difetti che al film a livello narrativo secondo me il finale potente è finalmente uno Spider-Man per i cazzi suoi con un costume classico che deve ripartire dal fondo quindi unendo i puntini all'epoca insieme alle immagini viste dal trailer davo per scontato che si andasse in una direzione poi quando ho visto Morbius tutti quei puntini sono stati letteralmente tolte mi viene in mente il meme di Charlie Day quando mette le puntine sulla lavagna collegando tutto e poi dice prova a spiegare il multiverso a qualcuno io credo che a quel punto Charlie Day dopo il film abbia distrutto letteralmente la bacheca sulla sua testa e noi con lui perché allo stato attuale io non ho idea davvero e non vedo l'ora di sapere cosa Mattioschi ci vuole raccontare perché io brancolo nel buio più totale ho appena letto un commento per capire il multiverso si deve aspettare Doctor Strange ragazzi il produttore esecutivo di Strange 2 ha detto il pubblico è chiaro come funziona il multiverso non ci perderemo in spiegoni ma io scommetto anche che in Doctor Strange 2 ci saranno anche nuove regole sicuro può essere ma io vorrei dire una cosa a Rob non so se hai letto l'intervista per me delirante di Daniel Espinosa con il giornalista che cercava di incalzare perché ce n'è uno in particolare che non mi ricordo non mi ricordo quale fosse il sito ma c'era questo giornalista che cercava di incalzare Daniel Espinosa per fargli dire che sì il film è una scammata che è una cosa stupida perché il regista non ti lo dirà mai ho capito ho capito mi è capitata pure a me sì tipo che gli diceva ma quindi questo film non le sembra un po' strano sì a me è sempre piaciuto l'universo Marvel cioè proprio andava non gli inefficace niente della domanda anche giustamente ma a un certo punto ha detto una cosa ha lasciato intendere che le scene post credits di Morbius non sono state realizzate consultando nessuno nell'MCU le hanno fatte per i cazzi loro senza sapere se la cosa andasse bene perché tanto i personaggi sono loro molto credibile l'ha proprio detto cioè loro i personaggi sono loro a loro non gliene frega un cazzo dell'MCU loro vogliono i soldi dell'MCU il problema grosso è che io lo ripeto da quando è uscito Morbius Kevin Feige deve stare attento perché voi non avete idea di quanta gente da me è venuta a dire l'MCU è caduto in basso io dico ma non è MCU però giustamente molti fanno un po' di confusione qualche volta ma scusami ma uno che non è informato vede l'avvoltoio pensa che è MCU cioè vede che succede la stessa cosa di No Way Home non è che pensa sì ma No Way Home era Sony non gliene frega un cazzo l'ha visto come film di Marvel Studios ma è normale a me sai cosa ha preoccupato invece di quello che ha detto Espinosa il fatto che avesse detto l'idea di collegare tutto e permettere questi scambi è stata di Sony ma svilupparli in No Way Home sono stati Marvel Studios quindi quel multiverso che abbiamo visto che non ha risposto sostanzialmente a niente non è un'idea di Sony il fatto che in Morbius la cosa Sony l'abbia peggiorata ok ma questo non mi tranquillizza sul multiverso che vedrò in Strange guarda io ad esempio sono molto d'accordo con quello che dice Matioschi da settimane che noi ci siamo fatti questo film secondo cui la crisi di cui parlano nei trailer lui che ha giocato con multiverso sia quello che è successo in No Way Home ma io inizio a pensare che sarà qualcosa che succederà nel film io ne sono stra convinto direttamente io penso che sì e soprattutto secondo me io sono convinto che tirano veramente fuori Nightmare perché la stanno menando troppo con loro che sognano e fanno gli incubi e anche la banda cattiva secondo me prima si diceva che fosse pilotata tra virgolette da quello che dovrebbe essere Shumagorath ma non possono usare il nome per i diritti quindi questo è il personaggio Gargantos mi piace di più il mostro precedentemente conosciuto come Shumagorath un po' come si dice vabbè sì Gargantos però se ci pensate ha più senso che sia incubo se c'è incubo controllata cioè alla fine non sarebbe strano se il vero villain fosse incubo e addirittura io sono arrivato a pensare che magari tutta questa cosa del multiverso potrebbe essere una cosa molto onirica e che non sia il multiverso che abbiamo visto finora perché io mi ricordo io mi ricordo di questa dichiarazione di Sam Raimi una vita fa si parla di due anni fa quando aveva iniziato a prendere Prata Film che lui aveva detto sì sarà un multiverso ma è un multiverso da incubo io me la ricordo sta frase io ho detto ma in che senso tant'è vero che all'epoca se vi ricordate anche noi adesso magari non ce lo ricordiamo perché è passato tantissimo tempo e si è accurata tanta di quella merda a livello di teoria che non ce lo ricordiamo ma io mi ricordo distintamente che io con Mattioschi e Rob paravo del fatto probabilmente sarà un multiverso finto cioè non è un multiverso vero è qualcosa di ambientato nella testa di qualcuno ti dice è come la visione che ha avuto Tony in Age of Ultron che vedeva tutti gli Avengers morti tipo sì una cosa più più onirica quindi io spero magari hanno cambiato in corsa il piano però io quest'idea preferisco non abbandonarla perché se parto deluso se ti aspetta e ti aspetta una delusione non sarei mai deluso non puoi essere deluso però c'è America Chavez lei insomma interagisce con il multiverso reale anche secondo me sarà il multiverso canonico ma proprio per evitare di essere deluso il coinvolgimento di Nightmare non lo escludo c'è l'ultimo spot di book che lo chiama direttamente io la metto in un cassetto nel cervello che così mi torna utile così me lo aspetto poi c'è il trailer che inizia con lui che si sveglia nel letto eh sì no no ma quello sì però sai magari tutte quelle cose ci sono ma magari sono cioè magari c'è capito se fosse una cosa illusoria a me non darebbe neanche troppo fastidio anzi francamente io quasi preferirei una cosa illusoria che una cosa vera ci sono gli illuminati se li rendi illusori la gente c'è una domanda strana riguardo questa cosa qua perché io ho parlato con Andrea di questa roba e lui mi ha ha sfatato questa cosa qua io per qualche motivo ricordavo che nel comic con o di 23 uno dei due del 2019 quando annunciarono la fase 4 5 annunciarono Doctor Strange io mi ricordo proprio ma fino a una settimana fa ero convinto di questa cosa che originariamente il villain del film era cioè sarebbe dovuto essere proprio Nightmare io l'avevo proprio memorizzata come cosa è una cosa che mi sono immaginato anche qualcuno di voi se la ricorda no 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 c'era questo rumor che diceva era un rumor io però l'ho proprio memorizzata come una dichiarazione ufficiale sul palco no no era il mefisto del tempo eh ma tutti se lo sono dimenticati non credo io sono tutti dimenticati io all'altro giorno io per me era lui ma che poi cioè era un'idea che poi avevano buttato poi però quando l'hanno ritirato fuori erano scattate le fanta teorie chi è il cattivo chi è il cattivo che io continuavo a dire ragazzi c'è mordo no 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 possono mettere io c'è mordo no 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 mordo infatti nei trailer c'è mordo che fa parte degli illuminati e quando Rob mi ha detto che i cattivi sono gli illuminati io gli credo perché tutte le figure autoritarie nel Marvel Cinematic Universe sono delle merde tutti lo Shield lo Sword la TVA gli illuminati secondo me gli illuminati sono i cattivi quelli della Lidl cioè sono la classica minaccia iniziale e poi il vero villain arriva quello vero può darsi o Gargantos o addirittura magari sono Gargantos però è troppo cioè non lo so boom il mostro a me sembra giusto il minion che combattono esatto esatto addirittura io a questo punto penso che sia il minion di Nightmare se proprio devi ah sì sì ma su Nightmare soprattutto dopo l'ultimo trailer io sono quello lì quello lì che combatte nel trailer per me Kang per me è una variante secondo me Iron Man Captain Marvel Kang in teoria nei fumetti si chiama Iron Lad che è la variante di Kang sai che Kang ha tipo vari periodi come Picasso c'è il periodo blu lui è il periodo anziano che è morto il periodo faraone sì sì ha diverse forme tra virgolette una di queste è Iron Lad in Moon Knight aspettatevi citazione a Ramatut che arriva 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 comunque bello Morbius che ne stiamo parlando un sacco sì sì bello beh ma che devi parlare fa cagare ho una domanda perché so che a molti non sono piaciuti però io non sono rimasto dispiaciuto l'effetto vampiro attenzione no Jimmy brutale io l'ho visto è bruttissimo a me piaceva il primo piano perché era un primo piano e alla fine era più o meno la faccia di Morbius anche a livello fumettistico ci stava ma tutte le scene in cui venivano presi da un po' più lontano quella della metro poi io raramente mi sono divertito così tanto al cinema la scena lunghissima di Matt Smith che cammina al rallentatore non arrivava più incredibile quella cosa lì inquadratura su Morbius lui che cammina al rallentatore sì Morbius che alza la mano e sente il vento era veramente troppo lungo con questo effetto in faccia un filtro di Instagram boh a me è un po' lo stile ma l'idea vampiri a me piacciono i vampiri quindi non lo so alcune cose si verano brutti tu sai perché ha quella scia nei film lui è il mantello ma ti rendi conto sì ma tu ti rendi conto il regista non aveva capito che nei fumetti quello era il mantello ma lo scio ce l'ha anche nei fumetti no coglione non ce l'ha nei fumetti la scia le scie servono solo per farti capire più o meno cosa sta succedendo esattamente come in Venom la furia di Carnage ho capito che nei film Sony l'unico modo che hanno per farti capire qualche cosa dei combattimenti che evidentemente non sanno fare perché io ne in Venom la furia di Carnage in questo qui capivo una mazza avevo un mal di testa incredibile e farti i personaggi che hanno la scia come il Rocket League avete presente le macchine che hanno il turbo colorato è Rocket League loro ti mettono la scia per farti capire chi sta combattendo dove metti anche caso che l'avesse nei fumetti ma a livello filmico devi trovare un motivo per cui lasci la scia dovresti farti la domanda perché si scolorisce ma soprattutto la tempera voglio sapere chi è che in Sony dai tempi di Spider-Man 3 continua a suggerire agli sceneggiatori che le scene di ballo di un tizio cattivo sono esilaranti io questa faccia di merda ma povero Matt Smith povero Matt Smith veramente ma povero Matt Smith che ha un manager che gli sceglie dei ruoli di merda perché grande performance magari si rifà con House of Dragon dai la performance la performance allora Matt Smith è un attore della Madonna io non credo di averlo mai visto recitare male il problema è che partecipa sempre a Francesco fa alimentari è una cosa pazzesca doveva essere in episodio 9 e non si è mai visto doveva essere Scalla la personificazione Skynet in Terminator in Genesis lo è stato per 10 secondi e poi il francese è fallito arriva in questo parte che vabbè non è un personaggio che non tornerebbe in futuro però è proprio brutta come cosa cioè è brutto perché Cristo non lo stanno non lo sanno sfruttare c'è un contratto ha avuto un contratto con Disney l'ha sfruttato di merda ha avuto il contratto con Sony l'hanno sfruttato per questo se vogliamo guardare per me è la cosa migliore del film perché il personaggio fa cagare però lui è bravissimo lui è migliore dell'onda energetica dei pepistrelli sì perché meno lui non riesco a capire sullo schermo l'onda dei pepistrelli è dura l'onda dei pepistrelli ma poi come è montato mamma mia no ma poi quella dovrebbe essere la top scene del film la scena epica non si capisce un cazzo perché se metti 100.000 pepistrelli che si muovono tendi a coprire l'attore quindi ma nella scena di combattimento precedente quando precipitano ma sbaglio a un certo punto lanciano proprio il terriccio contro lo schermo a me è perso di essere investito da una colata di cemento armato e non capivo ma cosa sta succedendo non me lo ricordo non me lo ricordo sì è veloce ma a un certo punto si è proprio io ho visto il nero al cinema o forse il mio cervello voleva preservarmi allora ha oscurato tutto aiuto però ho avuto quella sensazione proprio proprio bella può essere può essere tanto si capiva un cazzo quindi ognuno ha visto un po' quello che voleva ed è democrazia creativa ognuno ha visto il combattimento che preferiva per me è stato epico va bene ci sta ho visto quelle cose emozionalissime non lo sapremo mai però sono successe sì sì però se mi può interessare ci sono troppe scene tagliate troppe troppe se mi può interessare su Rotten Tomatoes il film nonostante abbia un gelido 16% da parte della critica con tira di gradimento sì sì l'ho detto prima è apprezzato è apprezzato beh ma infatti ad esempio prima Victor diceva che ha trovato i Venom più gradevoli per me è meglio dei due Venom questo film per me no cioè se mi puntassero la pistola alla tempia dicendo brutto stronzo devi vedere per forza uno di questi film Morbius no io invece Venom perché a me è quel brutto che prendo per il culo mi faccio anche due risate invece io con Venom mi sono incazzato mi ha irritato moltissimo credo di non essermi mai imbarazzato così come nella scena del concerto colui che fa il discorso per i diritti LGBT quindi quindi ti ha lasciato qualcosa ma io preferisco sì ho capito ma mi ha lasciato una merda nell'animo cioè io preferisco invece una roba innocua io no perché a meno io quella scena agghiacciante di Venom 2 ma perché sei un po' Sadomasovic per quello ma no è proprio il contrario proprio perché sono quelle scene lì io me lo ricordo e quindi rimarrà sempre in me la frustrazione però perlomeno mi ha lasciato qualcosa io Morbius tipo la scena che hai detto prima di Mads Mink che cammina lento ho fatto fatica a ricordarmela perché l'avevo rimossa di Venom 2 allora ragazzi mi criticate il film e non vi ricordate le basi allora io trovo vai Martini io trovo che sia io trovo che cioè anche io ho preferito questo i due Venom bravo ma anche per un ma per un semplice fatto anche proprio di che da fan di Venom non non lo so non lo so se fan di Venom è un delitto quel film te credo no assolutamente assolutamente sì però appunto questo qui è stato proprio cioè almeno c'era un incipit almeno provava a essere serio dandogli un incipit un qualcosa che poi non c'era era tutto sbagliato tutte le scene tagliate tuttora non ho capito la scena della foresta in che situazione era se prima dopo ah quella che hanno tagliato dici perché ha voluto tagliarsi per far arrivare i pipistrelli che c'erano milioni di altri modi per portarli al laboratorio invece si vede con la scena di lui che si taglia i pipistrelli che piuma gli altri Venom mi hanno fatto proprio incazzare proprio perché allora per tanti motivi è che come diciamo cioè il fatto è proprio questo Morbius l'ho finito di vedere e ho detto è un film inutile è un film inutile e non ho voglia di rivederlo esattamente come gli altri due Venom quando sarà il capo dei sinistri però gli altri due Venom mi hanno dato il nervoso sarà molto utile allora l'esempio è sono tre prodotti inutili solo che due mi hanno innervosito l'ultimo no esatto nel senso Morbius non è che mi ha innervosito ho detto che schifo sto guardando che scene sono cosa sta succedendo non capisco niente ma gli altri due Venom mi hanno proprio dato fastidio anche perché sono fan probabilmente quindi mi hanno dato la mattata poi c'era anche più aspettativa poi Tom Hardy mi piaceva come attore quindi anche c'è anche da dire che sai la gente si è incazzata tanto per Venom perché molti sono fan di Venom con Morbius cioè neanche Morbius è fan di Morbius capito? è un personaggio più libertà sì 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 però appunto Venom mi ha irritato e io invece l'ho percepita all'esatto opposto proprio perché Venom era stato volutamente demenziale trash Morbius invece vuole essere volutamente serio ma risulta inconsapevolmente demenziale trash e questo mi ha irritato ancora di più però io vi ricordo che il primo Venom è frutto di 40 minuti tagliati il sul secondo possiamo dire l'hanno fatto così apposta il primo no sono d'accordo ok infatti il primo Venom si è arrivato in sale in questo modo lo ripeto non è colpa di Sony ma è colpa di Kevin Feige sì sì perché c'è stato lo screen test privato e detto no così io non lo posso mandare nell'MCU se ha successo perché è troppo violento è troppo splatter non va bene non si sposa col registro l'hanno cambiato ha visto il cut finale ha detto eh ma non va bene comunque a cagare è iniziata la maretta dei diritti di Spider-Man sì è lì iniziata ma tra l'altro anche con Morbius qualcosa hanno ritoccato perché c'è un'altra sequenza che mi è entrata nel cuore oltre a Matt Smith anche qui forse non la ricorderete perché è un film talmente memorabile ma il primo il primo assalto ai mercenari che tanto sono mercenari quindi prima o poi sarebbero morti pazienza a quelli che stanno all'elicottero ah no a quelli che stanno dentro la nave no no a quelli nella nave c'è Morbius che ne artiglia uno al collo e sto povero stuntman si mette così davanti alla telecamera ma non c'è niente lui lui a favore di camera perché probabilmente in post avrebbero dovuto mettere gli zampilli ma non c'è proprio nulla e tu vedi sto povero disperato con un test mezzo dietro che poi si insieme anche il collo ma non c'è nulla ti sei mutato mi scompasso 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 si si per due secondi l'ho riguardata bene ok quella scena quando lui quando lui si esatto quando lui fa così no perché in quel momento lì già nella prima alla prima visione perché ce n'è stata più di una purtroppo già alla prima visione io ho detto hai visto due volte lascia stare voglio guardare vedi che gli è piaciuto lui finanzia Morbius è lui è vero non negarlo no no ho vogliavo guardare bene perché io ero sicuro che in quel momento avrebbero scelto proprio sangue quando il soldato si mette la mano alla gola si vede un timido rivolo di sangue nero ovviamente che cola dalle dita ah quindi ho capito è come quando ti tagli e non sanguini subito è capito della pressione del sangue è certo ok 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 io ho un'altra io ho un'altra su vai Jimmy che lo vuoi dire da 20 minuti se doveste se doveste scegliere una cosa che avete visto in Morbius che è quella che per voi un po' che ha meno senso di tutte che vi ha fatto un po' più schifo quale scegliereste perfetto io pensavo quella bella no 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 dicendo ah beh se c'avete anche una bella ok cioè nel senso a me ho detto prima l'aspetto vampiro a me non mi ha dispiaciuto non lo so mi è mezzo piaciuto la cosa che ho trovato che c'aveva meno senso era quando tipo la ragazza come si chiamava la ragazza Martin Martin si taglia il dito che fa quel taglietto piccolo e lui quasi impazzisce capito tipo sangue sangue poi quando va a casa del eh mi sto dimenticando quando c'è il dottore morto a terra il professore sta morendo di sanguato niente va lì ci pare il prof come sta tutto a posto ma ci penserò io non solo non solo guarda che lì avviene una cosa terribile vai cioè siccome è proprio la base di un sceneggiatore non puoi mettere due scene identiche consecutive è brutto è stupido è proprio di una persona che non sta a scrivere una sceneggiatura lui arriva a casa del professore tra l'altro le morti in questo film sono bellissime lui arriva a casa del professore oh che succede devi fermarlo neanche una parola ah tu dici subito dopo fanno la stessa cosa con la ragazza no identica e anche lei mi dispiace sì sì soprattutto il professore lo chiama dicendo ho bisogno di aiuto perché non ha chiamato un'ambulanza abbiamo un ospite a sorpresa quella oh grande questo ospite non ha senso si sta vedendo un po' troppo io e te basta basta ciao come va tutto a posto stavamo parlando molto bene di morbius prossimo premio oscar sì che bello sono contento che bello questa giacchetta sbarazzina è una mestaglia è una mestaglia quella sembra una giacca di quella giacca da camera ma anche dipende stavamo dicendo sì 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 no tantissimo tu stavi dicendo Vic la cosa è no questa cosa qua che ti fanno queste due scene consecutive ma poi perché non ha chiamato cioè ha chiamato morbius dicendo che aveva bisogno d'aiuto perché non ha chiamato il 911 chiama il 911 troppo difficile da spiegare vabbè cioè lo so uno dice ma perché queste sembrano quelle cose che sono pulci ma in realtà non sono pulci perché sono proprio reazioni umane sminchiate no non è che se è un fantasy allora le reazioni umane possono essere sminchiate ci vogliono delle reazioni umane che siano umane se non chiami il tizio tra l'altro tu sai che è un vampiro che impazzisce a vista il sangue chiama il vampiro ma sei stronzo no perché sa che con il suo sangue non impazzisce Vic quello è ovvio ah giusto era sottointeso no ma spero ma sapeva lui sapeva in quel momento che Morbius fosse vampiro beh sì boh non so che non ne sono certo no non penso perché come dovrebbe saperlo scusami ma stai dicendo ma stai dicendo Nicolas sì ah è vero è ricercato è vero cioè è ricercato vede 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 l'altro lì come si chiama ok è vero sì però non so se logicamente ma io dicono dicono che è un vampiro ma non so se il dottore intende cazzo un vampiro vero della Transilvania cioè magari pensa boh però avrà smattato con l'esperimento ok è il momento in cui l'hanno è stato aperto in due come un panino da Milo avrà capito che tutto in quel momento sì in quel momento decisamente ma lui lo chiama dopo essere stato squattato ma no non ho dimenticato che loro ne parlavano ma perché dovete capire che io ho finito di fare i video io ho buttato cioè proprio ho preso sì sì ma prima non ci ricordavamo stavamo parlando della scena della metropolitana l'avevamo un po' cancellata era è vero male penso che sia un sistema di autodifesa del nostro cervello che comincia a cancellare tra l'altro di sempre in questo film sì 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 hai ammazzato otto mercenari ma chi se ne fuga tanto prima o poi ma ho capito ma poi la storia non funziona così la polizia ma la storia l'infermiera è una brava donna ho capito la storia di di Tyrese Gibson che dice sono andato in guerra c'ha la cicatrice qua c'ha il braccio robotico a un certo punto si dice che c'ha il braccio robotico quella è una cosa mai spiegata allora è talmente ben fatta questa cosa del braccio robotico che io l'ho scoperto quando me l'hai detto tu e a me l'ha detto Andrea neanch'io l'ho notato eh ragazzi a me l'ha detto Andrea quando si vede solo quando alla fine Morbius vola via dal combattimento finale vola in alto e poi finisce il film ma anche quella lì sarà roba tagliata roba tagliata ma anche i due poliziotti alla fine non fanno niente per tutto il film no no io credo volessero costruire una sorta di rapporto alla Gordon ma hanno tracciato chiaramente la versione di Sony di Sam e Twitch cos'è Piero Angela Alberto Angela cos'è? è Percy Jackson ah hanno scelto Walker Stobel di Adam Project non è che l'avete trovato se siamo fatti adriano da giovane invece no non è tanto non ero così gnocco io ho visto dal sito proprio di rickriordan.com che l'ho giocato ora ma il giovane di Adam Project ovviamente sì sì quello che fa il giovane se n'era Ryan Reynolds effettivamente voi avete avete lezioni mi piace molto ce lo vedo è bravissimo lui è Jackson mi associo e abbiamo finito di parlare di Morbius esatto giravo questa scena bellissima dietro le quinte che ha condiviso Ryan Reynolds in cui lui sa memoria un monologo di Deadpool 2 il bambino bello sì sì super fan e a proposito di cose annunciate avete visto che il canale di Stranger Things è in streaming con un countdown di 21 ore sì sì no non lo sapevo non abbiamo ancora visto un trailer gli episodi di questa parte durano tutti più di un'ora eh sì quella che la prima parte poi arriverà dopo tipo un mese la seconda parte sia luglio mi pare anche lì luglio luglio e poi però ci sarà ancora un'altra stagione yes beh l'hanno sempre detto che erano 4 5 stagioni da qualche anno poi se la qualità come quale era la terza per me va bene anche però fin off secondo voi sì mi sembra hanno già annunciato che vogliono fare altri progetti dell'universo di Stranger Things sicuro oddio l'ultima volta che ci hanno provato non è che è andata bene c'era un episodio nella seconda stagione che era anche entrato a Chicago con gli altri buuuu filler perdonatemi non era le Mandalorian quindi non andava bene un filler è vero ed era palesemente un backdoor pilot palesemente e invece non è andata però magari ci riprovano chi lo sa a me non piaccue tanto la seconda stagione Stranger Things non mi ha preso con le altre a me la terza è piaciuta la scorrevole sì 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 a me è piaciuta da mattina molto più ridanciana rispetto alle prime due però mi è piaciuto però erano tornati allo splatter sì sì da un lato era splatterosissima dall'altro c'era proprio questo clima ridanciano il focus non era nei mostroni ma la crescita dei bambini e il passaggio all'adolescenza questa è una cosa più bello se vogliono giocarsela bene adesso devono fare la stessa cosa nel passaggio all'adolescenti a young adults secondo me anche perché in effetti quello che mi preoccupa è che devono ancora fare un'altra stagione sti qua ormai c'ha la partita iva sti qua ormai la voglia quando è uscita la prima stagione 2015? credo proprio di sì 2015 passati sette anni sì credo forse ero ancora al liceo addirittura quando è uscito 2016 mazza 2016 sì era tipo a fine anno mi sa tipo a ottobre ad Halloween l'avano fatto sempre è uscita è uscita poco non troppo tempo prima rispetto a Dark è uscita in estate Dark è uscita in notturno la prima stagione quindi perché ricordo che c'era quando è uscito Dark dicevano tutti ah è Stranger Things non c'entrava niente però qualcuno di voi per caso ha visto universi paralleli su Disney Plus no? ok nemmeno io è perché dai trailer sembra ha quello stile Dark Stranger Things è praticamente cioè dal trailer sembra Dark Disney perché ci sono questi ragazzi di una cittadina che vanno non probabilmente in una grotta ma forse è una porta e in una foresta entrano dentro e c'è un viaggio del tempo no? è quello l'avevo visto visto il trailer si pure avevo visto solo il trailer mi ricorda universi paralleli è uscita boh due settimane fa tipo in un bunker mi dicono entrano in un bunker non me l'ha consigliata nessuno né niente è francese e ho detto cos'è sta cosa aia francese intanto vi ricordo che il primo novembre 2019 avevano annunciato sull'account ufficiale di sony che oggi sarebbe uscito il primo film di across the spider bears se non era la scorsa settimana non era la scorsa settimana no vabbè comunque stiamo là però purtroppo niente 8 aprile 2022 ho il teaser qua davanti eh la pandemia poverino è stato molto bello l'abbiamo visto concludendo Morbius perché tanto non è che abbiamo molto da dire qualcuno vuole aggiungere qualcosa sulle scene post credit oltre al fatto che non abbiano senso e quel che abbiamo detto prima io sto aspettando che Mattia facciamo che Mattia è l'ultimo a parlare che ci presenta tutto qualcuno vuole dire qualcosa no c'è una scena non vi accalcate ok c'è una scena che voglio voglio riportare in auge del film quando vanno sul tetto nel primo inseguimento e c'è Morbius che è sulla in alto in alto e inizia a sentire l'aria poi c'è un taglio e vai in galera com'è successa questa cosa qua lì secondo me lì c'erano le scene di Keaton quelle che dicevamo prima sul tetto no beh prima che vada in prigione beh sì no allora tu si è perso sta cosa c'erano delle scene tagliate con Keaton dove lui appunto era arrivato in questo universo ma non aveva la sua tutta quindi cercava di volare buttando sui palazzi e accettando le mani e questo era sul palazzo certo era un birdman ho capito sì esatto volevo cercare di capire anche come chi è che l'ha buttato in galera in quel momento cioè chi lo poteva fermare e portare in galera no lui si arrende io penso che lui si arrende ma non c'è la scena dove si arrende eh no gli puntano in scola e lui dice beh quando lui guarda giù l'altro gli punta la pistola e poi c'è un taglio proprio durante perché capisce che non si vuole buttare però fai conto che lui in quel momento si ritiene responsabile dell'uccisione dell'infermiera quindi un po' si sente in colpa e ma hai scappato fino sopra vabbè ma a parte no no ma un po' di immaginazione Mark su cioè vedi un personaggio io l'ho visto diversa io l'ho visto in scola io l'ho visto come lui che non sapeva il ragazzo andare perché lui arrivava sopra ma non sapeva ancora di saper volare sì quello era non era una questione di non ha volato la questione era perché non ti sei girato e non hai menato tutti visto che sei cosciente di cosa puoi fare perché lui poteva girarsi e si faceva piazza pulita da solo eh no ma poi lo cancellavano su twitter si attaccava un frizzetto di colore quindi non voleva rischiare eh scusate poi lui in effetti attaccando credo a mazzi non credo abbia elaborato una tecnica di combattimento non mortale ma in quel momento non era fuori fuori di sé comunque è vero non era fuori dei gingheri però io proprio mi ricordo che anche al cinema d'alta voce ho detto eh beh scusa c'era c'era la fila che un taglio c'è lui in galera quest'uomo con una pistola piccolino in confronto a morbido poi abbia scoperto che aveva l'adamante o anche lui ma non lo sapevamo e che c'è il taglio e lui in galera va bene me lo faccio andare bene mi sto facendo andare bene tutto il resto del film penso che eh beh possa essere riassuto di tutto mettersi contro la polizia è una cosa che voleva fare io faccio notare una cosa che avevo già detto anche a Matioski vi siete resi conto che c'è una scena sul finale che è identica a una scena che c'era in Venom 2 identica ah sì ricordate che in Venom 2 c'era il poliziotto che all'improvviso si svegliava con gli occhi azzurri poi c'è la stessa scena con la dottoressa ma gli occhi rossi identica però identica al risveglio di bella suono in Twilight diciamo le cose in cos'era capolavoro fondativo che ha influenzato la cinematografia negli ultimi anni in effetti tutti i film di merda che ho visto ci somigliano ma anche qua la scena che diceva di lui che si ferisce quella è un guadagno non mi ha ricordato Twilight però va veramente cagare dai con la differenza che in Twilight sembrava che si fosse ferita con un trinciapoli perché è sagginato vero però lì almeno se non sbaglio manteneva una coerenza cioè se c'è il sangue impazzisce comunque va bene ma neanche se ti tagli sulle palle che sono molto vascolarizzate sanguini così hai provato hai provato non vi siete mai rasati le palle nella vostra vita mai un taglio più profondo non la pelle io uso una crema depilatoria quindi boh no io no ma che quella merda chimica ma se mi sono graffiato però io ho pensato la carta mi sono spurtato di te hai detto che c'è la rossa però io ho rimasto una carta da pacchi no no si ho scartato un regalo con le palle una volta c'è un regalo un regalo però per dire che ci sono tipo vero che le dita sono vascolarizzate però tipo se ti tagli sulla fronte anche un tagliettino minusco zampilla momenti non è che zampilla capito ma sulle dita si sanguini però questa si tagliava con la carta da pacchi e iniziava tipo c'era troppo come in franco la morte contento quando esatto quindi qua siamo tutti curiosi di scoprire il futuro della sony Matteo adesso bisogna fare io me la prendo comoda adesso voglio ascoltare innanzitutto vi dico che le scene post credit non hanno il minimo senso ma non sono troppo lontane da stanno arrivando tutti i cattivi che conoscono l'identità segreta di spiderman ed electro non è una cosa così mi piace questo mi piace solo che nell'MC1 vabbè io sono assolutamente d'accordo secondo me qua è peggio no no allora io sono d'accordo però io la la guardo sempre così a me non dà fastidio se mi fai questo in un film di spiderman che lo guardo e dico minchia una figata vabbè se me lo fai in un film di merda stai certo che mi attacchi non è gravante stingo la stronzata perché il problema è che non è solo sbagliato a livello logico è sbagliato anche a livello di caratterizzazione del personaggio perché uno non ha motivo di essere lì e due non è che questo infatti anche Electro non c'entrava una minchia con quello di Amazing Spiderman 2 ma infatti io non avrei messo Electro io non l'avrei messo anche perché che senso ha metterlo che è un figo della madonna e bello che nel filo fa un po' notare ma io mi ricordavo che è diverso perché è così secondo me li avrebbero dovuto raccontare una storia mancante ma scusami bastava non metterlo davvero bastava non metterlo è un film fantasy un po' del cazzo alla fine quindi bastava dire beh ho potuto modificarci ho un'energia diversa su questo ma quello l'ha detto io intendo proprio la caratterizzazione però ma poteva dire io ho mescolato bene le molecole e sono anche cambiato ma sì è l'ultimo dei problemi però il futuro della Sony oh dai dai che vi farà applaudire tutti con gioia vai sinistri 6 multidimensionali contro ben più di uno Spiderman sì tutti e tre li useranno ma io te ne metto dentro anche degli altri una bella Spider-Gwen non la vuoi scopata si parlava dai può essere perché perché allora già qui l'avvoltoio va di là Craven ci saranno altri riferimenti probabilmente l'avvoltoio lo recluta ok Madame Web è un personaggio che storicamente è associata al multiverso certo e quindi ti può proprio fornire la molla per unire tutto anche in modo magari un po' un po' più facile magari è lei che apre i portali che ne so quindi io vedo proprio quella come destinazione anche perché commercialmente parlando un film dove nei sinistri sei trovi Tom Hardy Jared Leto Aaron Taylor Johnson Dakota Johnson non so se fa parte del team magari è un personaggio secondario che però nel megaprogettone la coinvolgi Michael Keaton grandi nomi più secondo me due donne che sono quelle che mancano perché sennò sono tutti uomini e probabilmente sono la gatta nera e Silver Sable il reno di Paul Giomatti magari c'era il rumor su Anya Taylor Joy non lo so però ragazzi sono grandi nomi commercialmente spendibili me li metti contro a uno Spider-Man 2 3 20 è un film che saremo tutti lì a vederlo anche perché un conto è il film sul vampirello che vabbè ma vederlo all'interno di un team sto cazzo di vampiro che salta da tutte le può essere anche figo quindi come spesso il gruppo è un po' l'effetto delle ragazze no? l'effetto cheerleader esatto tu ne vedi una in gruppo uguale l'effetto cheerleader saremo tutti lì un miliardo e mezzo al box office quindi questi che Morbius stia andando male ma chi se ne frega ma no no chi se ne frega però il punto è se lo gestiscono come hanno gestito i film finora e io lo andrò a vedere con una gran paura cioè capito a me a me che mi faccio il gruppo sì ma a me che faccio il gruppo dopo No Way Home non siete credibili no io do ragione a Mattiocchi non sono d'accordo non sono d'accordo perché credibili ma no perché là c'era c'era un un effetto completamente diverso perché comunque il film potrà anche avere tante cose che non funzionano ma non puoi dire che non gasi Cristo è gasante non puoi dire che quello che ha detto Mattiocchi non va a contraddire quello che dici c'è un film scritto male ma che è gasante siamo ancora a te ma me lo dici però me lo dici allora io ti dico una cosa molto semplice ti spiego perché hai ragione Andrew Garfield cioè Andrew Garfield tutti minchia che merda Amazing Spider fa cagare il cazzo quello che ho detto prima quello che ho detto prima più grande però attenzione c'è solo un problema cioè io parlo per me c'è solo un problema a me dei personaggi che è nominato nei sinistri 6 e ce ne fosse uno di cui mi frega un cazzo di qualcosa per me ma guarda no no guarda io sono uno che si gasa ma mi gaso per certe cose io ti giuro qualunque cosa propongano lo vado a vedere perché è ovvio cioè il nostro lavoro lo andiamo a vedere però io ti giuro ci fosse stata una singola volta in cui avessi veramente delle speranze per questi cazzo di film della solita cioè io proprio a livello di hype no ma possono mettermi il treno più figo del mondo ma tanto lo so che non gli va di lavorare no ma non è questione di trailer che inevitabilmente un film del genere poi ripeto può esserci Holland che secondo me non lo escludono perché noi ci siamo fatti tante pippe sul simbionte di là che magari si attacca allo scorpione ok ma quello è il pretesto perché Venom torni di là probabilmente la voltoio lo recluta mi manca manca una parte di me che fine ha fatto è rimasta nell'universo da cui provengo ma che non lo firmi il contrattino per entrare a far parte di Sinistri 6 daie caro Morbius lei che sta tanto male io provengo dall'universo più tecnologicamente avanzato ti va di fare una capatina di là che ti curiamo con le tecnologie PIM e daie Craven ma tu che vuoi cacciare le creature più pericolose ma sappi che da dove vengo io questo entro quanti anni cioè nel senso quello che ne avevamo detto tempo fa era che prima o poi avrebbero chiuso io per come lavorano 6 mesi direi no 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 io gli do io gli do 3 anni comunque ciao non di più ciao ragazzi Andrea ha fatto con tutti questa gag oggi sì questa gag è simpatico io volevo è arrivato nel momento speculo volevo ringraziarti insieme come ho detto scendi 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 e io ero tipo 40 minuti che lì ci tofonavo sotto casa senza aprirmi non è mai vera questa cosa no vieni facciamo la live da me direttamente ho fatto tempo a tornare su a Torino certo avete già detto che era il film più bello dell'anno sì sì è la prima cosa che abbiamo detto Oscar attenzione c'è scritto number one film in the world ma io pensavo che parlasse del box office di quella settimana sì credo credo anch'io però faceva ridere number one film in the world comunque ho dato un'occhiettina alla chat e ho captato guarda un po' il caso tipo la Sony fa cagare era il commento io vi ricordo che attualmente ha prodotto i film migliori di Spider-Man così beh migliori migliori non Spider-Man 2 ah scusa tu parli tu parli di quelli di Remi ah sì sì Into the Spider-Verse sì sì adesso Garfield non è mica stato consacrato bravissimo bellissimi i suoi film ma infatti ma io penso in opera contraria ma poi oltretutto la Sony fa cacare cioè Sony ha prodotto alcune delle cose di maggior successo negli ultimi tempi che sono anche piaciute vorrei ricordare che The Boys è Sony Cobra Kai è Sony ma che infatti Breaking Bad è Sony ma noi diciamo Sony perché è più rapido che dire il team di sviluppo che sta dietro i progetti del Sonyverse legati a Spider-Man però puoi accorciarlo con il nome di Aviarad che ogni volta esatto e Aviarad ci ha messo le mani ci ha messo le mani io tutto orgoglioso non sai mai cosa può capitare io continuo a dirvi che quando faranno sti merda di sinistri sei multidimensionali contro 72 Spider-Man secondo me non li fanno ma che grande emozione non torno una fava nel film ma è bellissimo mi ha gasato l'ho già visto ma sai che secondo me secondo me è quello che dicevo prima del mio lato fumettistico che si galvanizzerebbe per alcune cose però c'è da dire che mi hai fregato una volta tra virgolette farlo due volte tre volte quattro volte ma se c'è l'effetto Spider-Man Away Home con quel gasamento è un conto il problema è che io non ci credo più perché il gasamento finora è arrivato se ci metteva la mano le mani quelle del Mavestudio sulla sceneggiatura quando hanno i loro sceneggiatori sti cazzo dei film finora hanno fatto cagare il cazzo cioè se c'è qualcuno ma non fa cagare il cazzo ma non fa cagare ma non fa cagare il cazzo ma non fa cagare il cazzo puoi far tornare Maguire e Garfield e li fai tornare lì nella camera della zia del tizio che li invoca a random che sembrano però la scena è emozionante non puoi dire che non si è emozionante ma è emozionante di che emozionante perché ci sono quei due lì quindi quando mi farei vedere Garfield che si trova la sua Spider-Gwen che ha l'aspetto di Emma Stone comincia a farti le pippe pazienza se dall'altra parte c'è Morbius dici anzi che bello che fa il ruolo della zia dipende come lo fai dipende come lo fai se lo fai come hanno fatto i Venom perché c'era l'anzia da cogliere i due stavolta c'è Morbius però se tu se tu lo fai come l'ha fatto in One Away un po' essere gasante se mi fai come fa un due Venome e Morbius come fa a essere gasante non è gasante è solo brutto però è vero che effettivamente sul piano hanno delle cose per cui ti puoi gasare anche se sono dei film brutti poi è chiaro che dipende sempre tutto come lo fanno però sulla carta loro lo possono fare di nuovo il No Way Home 2.0 con la differenza che secondo me appunto in No Way Home funziona una volta è quello che dicevo prima è quello che dicevo prima cioè la mia cosa è più sì la mia parte fumettistica dice figo vedo delle cose degli scontri fighi però non sono fighi per davvero cioè la mia mente è che me lo dice a me ma non cioè ma per me nel senso allora io io sono d'accordo il ragionamento è quello però non proprio perché comunque io vado io dico sempre la stessa cosa io mi baso su quello che mi mostrano cioè in Spider-Man No Way Home sapevo che c'era lo Spider-Man che a me piace sapevo che c'era Tommy Maguire vabbè sapevo vabbè possiamo dire però comunque anche di villain delle cose confermate sapevo che c'era Doc Ock sapevo che c'era un Grigogh che sono tutte cose che a me piacciono tanto dall'altra parte se penso a qualcosa di Sony dico chi c'è c'è Morbius c'è Venom c'è l'avvoltoio a me l'avvoltoio è piaciuto è uno dei miei villain preferiti nell'MCU però non ho idea di come lo gestiranno dall'altra parte perché ovviamente sarà diverso perché già con i tre secondi con i tre secondi che mi hai mostrato in Morbius Dio mi hanno fatto odiare il personaggio quello è vero però allo stesso tempo Venom ha incassato uno sfacelo certo ma perché la gente non capisce un cazzo e questo lo diciamo da sempre e questo lo diciamo da sempre ma d'altro c'è stata però se parliamo per il grande pubblico il ragionamento di Mattia non fa una piega c'è stata una riportazione in negativo di No Way Home perché l'altra volta quando ne parlavamo che abbiamo sempre in questo canale che abbiamo valutato i difetti c'era la gente scontente in chat ma no è bellissimo adesso fa cagare fa cagare tempo al tempo io sono lì ad aspettarvi sul fiume i cadaveri della guerra della battaglia ma non capisco cioè è strano tempo al tempo può essere tra alcuni live del momento anche esatto quello sicuramente fa per quanto riguarda il mi fregano una volta e qui vado contro invece i miei gusti c'è chi direbbe che ci hanno già fregati la seconda perché comunque anche Endgame tra le pieghe delle sue scene spettacolari un po' di cappellate le ha però vabbè però non a livello No Way Home ci sono proprio delle incoerenze anche in Endgame Marco guarda che vado contro i miei gusti però mi ricordo quando uscì Endgame che tanti dissero state parlando per via dell'entusiasmo e in effetti io se penso ad Endgame penso alle scene spettacolari con l'impatto che mi ha dato quindi quello in Endgame non viene mai spiegato come faccia Thanos ad avere la fiala per viaggiare nel tempo per dire quindi quindi in fin dei conti al cinema ma le opportunità prevale no no non ha la fiala per andare indietro è vero è vero l'unica cosa è la BIM non ce l'ha lui non ha si spacca la fiala lui non ha la fiala per tornare indietro per andare nel loro mondo l'unica cosa che puoi inventarti è che l'abbia sintetizzata da serena quello che mi ricordavo tipo no no però non lo dicono no 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 non lo dicono è bonimo faccio ed è per dire quindi c'è tanti già con Endgame stavano traballando io no quindi No Way Home è già il secondo film dove vabbè sacrifichiamo un po' di coerenza per lo spettacolo ok magari ce ne sarà un terzo un quarto un quinto un sesto vediamo Doctor Strange 2 sono curiosissimo io credo che dipendono dalla frequenza con cui facciamo cosa io faccio un esempio parlando delle serie tv Marvel quando sono uscite le serie tv Marvel parlo di quelle dei Marvel Studios di Disney Plus erano tutti a bocca aperta per la CGI perché noi non eravamo abituati ad avere in televisione la CGI Game of Thrones era un escurso proprio una tantum per il resto non eravamo abituati a quella CGI in televisione nei prodotti seriali dopo un anno e mezzo due adesso si rompi coiono ogni volta che la CGI scricchiola un po' e ripeto scricchiola un po' parlo per Moon Knight parlo per Loki perché la gente esatto la gente ha la memoria a breve termine se guarda al di fuori di Disney Plus l'80% degli show televisivi la CGI che utilizza anche nelle piattaforme streaming probabilmente dovrebbe leccare il culo alla Disney per tutto quello che stanno portando nelle serie Marvel però se tu abitui a quella CGI la vuoi sempre e per quello che io parlo di frequenza nel momento stesso in cui il multiverso e i crossover improbabili o che prima erano impossibili diventano la quotidianità non inizia più a sorprendere la gente inizia a cercare qualcosa di più al di là dell'evento perché se l'evento diventa il quotidiano non è più un evento a supporto di quello che ha detto Rob ho passato una clip esplicativa al buon Tiziano se vuole condividere che mi hanno fatto vedere ieri perché io non sto seguendo più Flash e ok perché io perché io l'ho detto che Moon Knight scricchione un po' rispetto alle altre cose per quanto non mi dia così fastidio però vorrei fare notare che dall'altro lato quando si parla in casa di sì al momento perché non fanno uscire su HBO Max stagione 7 me l'hanno fatta vedere giusto ieri sera ma The Flash dici? sì ok oh mio Dio che dire beh però un attimino eh aspetta ragazzi un attimino sarebbe come pretendere una bella CGI come ci insegna l'amico Rob da una serie tv di una sette sì è importante quanto la sette in America che ha un decimo dei budget degli show Marvel però vorrei spendere anche una vorrei spendere una pornina per le serie dell'Arrover anche io ecco bravo quel budget lì hanno creato il più grande universo della storia della televisione assolutamente quello ha fatto meglio la BBC al cinema bravo sono anche molto più divertenti delle serie Marvel Disney Plus secondo me io comunque vorrei dire che in The Flash anche nella terza stagione quarta quando c'era King Shark era brutto uguale non so perché si siano stupiti adesso e che è quello che possono fare secondo me sono stati con quell'universo lì sono stati anche più bravi quasi della Marvel perché hanno fatto delle cose che la Marvel al cinema non hanno ancora fatto e l'hanno fatto in tempi non sospetti cioè il multiverso il multiverso è gestito dieci volte meglio è tutto chiaro ci sono buchi è tutto chiarissimo ci sono buchi e l'hanno fatto con il budget che ha Giletti per non è l'arena peraltro prima supereroina lesbica primo supereroi gay prima supereroina trans e nessuno si è indignato no l'hanno fatto tipo perché l'hanno fatto in maniera molto organica Rob per quello l'Arrover ha un sacco di piccole il budget ha ragione per carità meglio quello che porta comunque a Disney Plus ma il budget è anche 10 volte tanto però non è meglio avere una CGI pezzotta ma delle storie più coerenti sì un po' io preferisco però devo dire anche una cosa io l'Arrover se l'avrei chiuso già da un paio d'anni perché non è ah ma infatti è lì ha le battute conclusive è come se avessero fatto 30 anni di MCU in 5 anni è vecchio io l'ho droppato io l'ho droppato tipo all'altezza della cos'era tipo quarta stagione di Flash quinta di Arrow quando stava iniziando a diventare troppo beautiful con il triangolo Felicity perché la prima stagione di Arrow per me è una bomba lui arriva cattivissimo inizia a impala la gente per strada con le frecce era super dark infatti c'era tutta la prima stagione super oscura con lui che purtroppo il target della CW ragazzi sono ragazzine young adulti di senso femminile non puoi trascurare le scene shirtless e i triangoli hai ragione è così è vero tra l'altro in Arrow c'era lui che ogni due puntate si allenava su st'affare vorrei rivolgere un appello alle nostre teen tra il pubblico farò lo shirtless io in questo attenzione no non è bannabile non è bannabile non è più bannabile non è più bannabile è venuto il dubbio mentre lo stavo facendo ho detto cazzo non è più bannabile però è la prima volta che succede saluto agli amici di Twitch saluto a Twitch saluto è lo sclotto sono anni che mi batto per l'Arrover contro tutti e tutti bravo bravo però c'è rendo conto che siamo arrivati da Smallville a qui è quello è il passaggio che devi fare anche Smallville ha delle cose molto belle secondo me che non sono state più riproposte da nessuna parte però c'era la quarta stagione di Smallville che erano le streghe che facevano le robe con gli antenati di lana cioè era una roba però Mark io una serie che sono andati avanti in nove stagioni una serie su Superman senza mai far vedere Superman io posso solo stimare è geniale se ti portano ad esaltarti nel vedere il riflesso nell'occhio del fatto che c'è il logo tra l'altro io ringrazio perché c'è stato un periodo di Smallville dove andava di moda a far vedere tutti i tipi di criptonite io ringrazio che non abbiano preso la criptonite rosa che era una delle robe più terrificanti della storia di fumetti che ricordo faceva diventare gay come se fosse la lebra come se fosse la lebra io sono contento che non abbiano inserito tutti i tipi di di criptonite perché sarebbe finito sarebbe invecchiato molto male molto male tra l'altro del 2003 la criptonite rosa ho scoperto ecco è Smallville 2002 manco troppo bene troppo recente ma poi che cazzo che effetto è cioè proprio al di là del fatto che è rosa ma che cazzo che effetto è che diventi gay più rosa proprio la cosa no no ragazzi dobbiamo informarci è presente in un universo alternativo sì 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 in una trama del 2003 di Supergirl ma poi è scritta da Peter David ma vi passi sì sì è una roba questa bizzarra variante sembra poter far diventare temporaneamente omosessuali criptonite capisci che sarebbe invecchiato malissimo ma che idea è aspetta aspetta è presente in una sola vignetta in cui Superman faceva complimenti ambigui a Jimmy Olsen però c'è scritto la cosa è chiaramente una parodia delle molte varietà esistenti è uno sberleffo all'innocenza della Silver Age ok che secondo me va bene va bene io vi ricordo che comunque tanti che prendono di ispirazione i fumetti tipo Comorbius che vedeva le scie invece era il mantello non è che vanno proprio a informarsi bene bene quindi vedevano una fettonite rosa non capivano la battuta la gag secondo me posso fare un momento il momento fumetto due secondi su Superman e direi di andare a recuperare questo grazie vabbè vai intanto se non ricordo male Borges nei fumetti volava perché gli venivano le ossa buche però i pipistrelli mi sembra che non abbiano le ossa buche perché non sono uccelli qui non ho mai capito nel film ti spiega che vola perché sfrutta la corrente ascensionale sì ma nel fumetto diverso nel fumetto lui volava perché aveva le ossa buca nel fumetto è anche sempre trasformato non diventa un figo no 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 è Dobby lui dal momento in cui diventa Morbius ha delle battaglie interiori ma è sempre lui e poi visivamente è sempre stato palesemente Lobo sono uguali si rimetti beh Lobo è più bello secondo me Lobo è più bello secondo me è molto più grosso soprattutto se li metti vicini sì sì Lobo è più grosso però secondo me come ma un po' sia direi argomento Morbius l'abbiamo concluso serviva Smallville per far tornare Morbius vero vero esatto all'improvviso così e dato che l'avevi titrato fuori direi di spendere due paroline su Moon Knight se vi va su questi due episodi che sono usciti finora e Marco ho visto hai fatto una faccia strana vai sei il primo a parlare allora io ho apprezzato la prima puntata nonostante abbiano introdotto e fatto vedere della comicità che comunque secondo me era comicità che poteva funzionare poteva far ridere ci poteva stare dal momento in cui non la faceva Mark vedere forse qua sto facendo un po' troppo quello i fumetti però vedere Mr. Knight Deadpool per quanto sia stato così in alcune storie di Doctor Strange non mi ricordo come si chiamava c'è una storia di Doctor Strange in cui Mr. Knight è un po' Deadpool tendenzialmente il personaggio non è così vederlo così divertente così stupidino anche se non era Mark mi ha fatto un po' male a me la seconda puntata non l'ho apprezzata tanto però dall'altra parte la trama comunque ti fa venire voglia di andare avanti quindi sì non posso dire al 100% che non mi sia piaciuta la seconda puntata ma non la promuoverei ecco da fan degli fumetti Mark sono d'accordo con te però ti dirò che sta roba qui ha dato fastidio unicamente a chi aveva letto il fumetto capisco perché io guarda l'ho detto apposta quando ho fatto non mi ricordo se nella reaction o nell'analisi e sotto infatti mi hanno commentato io non ho letto fumetti e non mi ha dato fastidio però non trovate che quella scena abbia proprio una costruzione sbagliata cioè siccome l'aveva mostrato dai poster la gente se lo aspettava per l'amore di Dio ma non avviene troppo all'improvviso cioè non non mi stupisco quando succede succede talmente all'improvviso e talmente a caso io mi aspettavo un minimo di costruzione poi non alla seconda puntata ma aspettavo a metà serie è che proprio a me non è piaciuto non perché è diverso ai fumetti ma proprio perché in quel momento io ho pensato ma perché? sia un po' veloce come succede all'improvviso non si stupisce neanche c'è lui che dicevo ho capito ma per la fanno anche in maniera comica io mi aspettavo che magari lui tipo scoprissi di potessi trasformare ci provavo una roba tipo come quando Peter Parker prova il primo Spider-Man di Rey mi aspettavo che sperimentassi invece Andy che sta scappando cade e si trasforma in Mr. Knight così all'improvviso è veramente buttata dal nulla avrei voluto una costruzione per arrivare a quella cosa lì a me non è la differenza col fumetto che da fastidio è che proprio a livello drammatico non funziona un cazzo ma su me la sua idea era trasformare cioè era come lasciare il controllo a Mark e diventare Moon Knight però ottiene questo effetto diverso sì sicuramente però per come per come l'avevano tiserato in un certo senso mi aspettavo che fosse una roba anche perché questo si trasforma che è in giacca e cravatta cioè è un po' strano eh va perché lui in inglese dice in inglese dice completo ma ok sì siamo d'accordo va bene sì io l'ho vista anche in inglese con la scena va bene però cioè non mi aspettavo che fosse una roba comica cioè capito mi aspettavo che fosse una roba con dei risvolti comici ma che questo all'improvviso mentre cade si trasforma in Moon Knight ma in giacca e cravatta è obiettivamente un po' strano poi l'hanno spiegata dicendo che loro in base a chi dei due fa la trasformazione danno la diciamo il carattere di Moon Knight Mr. Knight prende in base quindi trasformandosi Steve era diventato un imbecille però a me personalmente ha fatto proprio strano la scena come dici tu sono d'accordo non c'è niente sì a livello a livello proprio di scrittura secondo me l'hanno sprecata potevano farla molto meglio di così ma ti dirò di più lo sai che secondo me non lo rivedremo più ti ho pensato ci ho pensato anch'io ci ho pensato anch'io sai che invece secondo me l'idea che vogliono raggiungere è che questo continuerà a trasformarsi in quei due modi è proprio una roba da videogioco a seconda degli ostacoli che ha davanti a sé uno è super violente e usi l'abilità che ti serve più furbo conosce meglio tutta la mitologia egizia quindi secondo me è proprio come quando nei videogiochi hai il party e puoi usare il personaggio con la skill giusta per quell'ostacolo nel gioco dei guardiani della galassia bravo esattamente però mi fa strano che ti diano una spiegazione sul perché era un imbecille se non lo vedremo più secondo me te l'hanno voluta dare perché sai cos'è che lui anche uno ha detto ben ten mod perché è vero è vero il fatto che nella puntata è messo in scena come un errore come lui che non è riuscito a quindi in teoria la prossima volta secondo me invece è proprio l'idea che lui non si può trasformare è una cosa che non se l'aspettava cioè un errore ma però secondo me è proprio che lui si può trasformare solo in quel modo perché ha quel carattere lì cioè secondo me la trasformazione di Moon Knight non avviene in tutti nello stesso modo io sono sicuro che se ci fanno vedere in un flashback il Moon Knight di Arthur non era come quello di Mark Spector e secondo me te lo mostro ad un certo punto vedrai che è diverso perché secondo me in base alla personalità dell'ospite ma non non so se l'apprezzerei mi sembra una complicazione eccessiva non so a me piace invece perché visivamente li diversifichi è figa come cosa a me piace sì ma io non avrei voluto c'è ogni identità c'è la sua variante supereroistica non lo so non mi a me invece a me invece piace pure a me piace l'idea videogioco che hai espresso mi ispira con le variabilità io quella ce la vedevo però con le personalità di base ovvero secondo me poi la destinazione ultima della serie è quella Mark che capisce che Steven può tornarli utile esatto convivono pacificamente quindi magari si trovano in una situazione in cui devono mercanteggiare con questo qua che capisce l'egittologia vai Steven quella l'ho pensato anch'io ma addirittura con Mr. Knight alternato a Moon Knight no però in effetti a me piace a me piace l'idea che in base alla personalità assumi cioè alla fine ci sta cioè tipo quello Moon Knight di Mark Spector è più guerriero quindi è minaccioso quell'altro invece è un po' più delicato un po' più gentleman se vogliamo ed effettivamente c'è lo smoking a me non piace come l'hanno messo in scena sì sì ho capito non tanto la cosa insieme sai cosa è che adesso vi dico la mia brevemente io mi piace tanto il Moon Knight fumettistico perché per la prima volta Moon Knight è comunque di un qualche anno fa analizzavano la malattia mentale in un fumetto della Marvel quindi era una lettura adulta seria cruda ed era questo che funzionava no? di Moon Knight è normale che quando ho sentito l'annuncio della serie mi aspettavo un cambio perché non avrebbero mai non sarebbero mai focussati sulla malattia mentale sul disturbo però il fatto che poi possa diventare una continua gag tra il pirla e la persona seria poi fa veramente effetto Venom ho paura di quello io ho paura che questo continuo da una parte dico ok non vuoi trattarmi la serie come seria con il disturbo che era quello che poi aveva funzionato nei fumetti però non deve diventare neanche Venom 2 che c'è il cretino che fa le battute l'altro non lo è già non l'ho notata io la cosa della Venom 2 nella prima puntata e nella seconda puntata però nella seconda come ti ho detto mi ha dato più fastidio è ritornato lo stupido domanda qualcuno di voi l'ha visto in italiano e non in inglese io l'ho visto in italiano io l'ho visto in italiano io la prima volta l'ho visto in italiano questo l'ho visto in inglese come hai fatto Vick scusa che l'hai visto in come hai fatto era in anteprima era in italiano avevi l'audio in italiano te ma che culo l'ho visto al cinema ah ok mi hanno invitato in anteprima io ho visto solo i primi due ed erano al cinema però io dico una cosa sai che secondo me a fine serie si risolve tutto ma tipo come Cliffhanger arriva una terza personalità anche secondo me l'hanno già tiserato beh in un'intervista a Oscar Isaac ha fatto intervista ma io ho già trovato degli indizi peraltro secondo me no anche perché cioè adesso lo sapete che non sono tutte le personalità cioè quelle che vediamo stiamo vedendo noi non sono tutte le personalità no 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 quindi ci sta che ma dirò di più la ragazza quella lì del museo chi l'ha invitata fuori eh esatto secondo me non è stata allora ti fanno capire come se fosse stato Mark però non lo specificano non lo specificano io l'avevo detto in tempi anche perché Mark c'è anche c'è un'altra c'è un'altra cosa che secondo me è una gag e non mi fido degli sceneggiatori Marvel ma se fossero intelligenti quel custode lì che continua a chiamarlo Scotty 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 eh Scotty è la personalità è l'altra personalità l'ho pensato anche io dovrebbe essere uno che si fa chiamare Scotty esatto poi vedrei non ha un cazzo di senso perché voglio dire eh si fa chiamare Scotty solo esclusivamente col magari ha un rapporto particolare con lui privilegiato anche perché la guardia si vede che è un po' nel suo mondo non è che sia molto a socializzare con gli altri può tranquillamente può tranquillamente essere però secondo me secondo me è una gag triste peccato però ma io sono più la senza io che arrivi la terza secondo me sì sì inevitabile inevitabile che poi io pensavo che la terza sarebbe stata Mr. Knight francamente no eh no perché è trasformato è lui trasformato ma nei fomenti è una roba distinta giusto sì ma infatti ma è diverso però se c'è una terza personalità ci sarà anche un terzo costume secondo Vixie ma io guarda io ti dico io spero perché perché nei fumetti di base non è propriamente così però visto che queste cioè lo sappiamo i fumetti sono una base di partenza e da quando è iniziato l'MCU che sono così quindi a me va anche bene vedere una cosa diversa e sinceramente vederne un terzo con una io spero anche che facciano vedere Arthur e il suo Moon Knight io vorrei vedere com'era onestamente come flashback a me quel personaggio è il personaggio più interessante pensa se lui riottiene il potere anche per poco non si chiama mica Harrow sì Arthur Harrow Arthur Harrow sì Arthur il nome sì sì ma il punto il punto è che secondo me allora a parte che a me il personaggio piace per l'amor di Dio non è il miglior villain che si sia mai visto però Itano che bravo e a me sinceramente è piaciuto c'è da dire che i miei standard per i villain dell'MCU sono talmente bassi che già uno mediocre però diciamo che quella scena lì è una cosa che mi ha stupito quella scena lì ti fa capire perché qualcuno si è lamentato dicendo quando va nella prima puntata tipo in quel posto che non si è capito se è in Austria in Svizzera in Germania comunque in quel posto lì dove c'era la comunità tutti si chiedevano ma come mai nessuno lo ferma beh la risposta ti viene data implicitamente quando lo vedono a New York non lo ferma perché evidentemente ha fatto la stessa cosa in quel posto erano tutti quanti assoggettati a lui erano tutti mi sembrava intuitivo no no c'è gente che sotto il mio video ha detto ma non hanno spiegato perché nessuno lo fermava ha detto ma te lo fanno vedere qua posso fare invece un commento completamente off topic visto che parlavamo di violenza invece lo faccio lo stesso vi confesso che sono rimasto particolarmente stupito di avere visto sei mutato Andre sei mutato un altro piccolo pesce da aprire un altro piccolo pesce da aprire ha fatto la battuta era una battuta è una gag vedete perché è anche uscito non hai capito di cosa stava parlando eh no cioè ha voluto fare una battuta però non ha detto di cosa stava parlando ha detto tutti si sono lamentati e poi boom basta eh ci ha tenuto con la suspense vabbè ma sei sicuro che era una gag infatti c'è scollegato ma è andata via la luce ragazze non era una gag sarebbe un twist incredibile non fosse una gag ma io ricordo una webserie che iniziava così però no me ne erano però non sono ok eccolo ma è una gag sono rimasto stupito di aver visto una delle scene più violente in Animali Fantastici ah ok sì sì anch'io sono io sono rimasto male ti dico la verità opinione veloce senza spoiler di nessun tipo di voi che l'avete visto riguardando riguardando i sei giorni il primo e il due guarda che comunque anche lì di violenza non si sono mai tirati indietro eh sì ma qua c'è una roba la questione che a regola a regola questa roba per bambini no ti dimentichi è una cosa che nel primo si vedevano i cadaveri di Obscuriale che c'erano i cadaveri per terra con tutti i martoriati in faccia che li avevano distrutti hai ragione è vero hai ragione però ti dico che secondo me quella scena di cui parla Andrea è brutta perché è in due fasi perché la prima cosa ok è la seconda che mi ha lasciato un attimino insomma ok boh non so neanche se andrò a vederlo a cena no secondo me il primo mi è piaciuto da morire il secondo metà mi ha annoiato tantissimo metà mi è piaciuto e il terzo non lo so tu conta che per me il primo a me il primo mi è piaciuto un botto ho sentito quel feeling di Harry Potter che tornava il secondo l'ho odiato con tutto me stesso questo terzo appare che secondo me visivamente è proprio figo da vedere ci sono alcune scene che sono proprio fighe trama niente di eccezionale però secondo me merita andarlo a vedere al cinema si anche secondo me non è niente di straordinario non ti strappi i capelli uscire da lì però io sono è finito ho detto va bene fa talmente cacare il secondo che secondo me questo quanto meno è guardabile poi ha un piccolissimissimo problema però vabbè poi magari ne parliamo secondo me ha un problemino proprio leggero ne riparleremo ok ok è giustificato la trama ma lo stesso ti viene da dire si ho capito ma è tutto felice che gongola un bimbo un bimbo felice poi comunque il baby Yoda è inquietantissimo vero vero esatto e concludendo io vi chiederei la solita domanda di rito se avete un film o una serie tipo che volete consigliare Rob vai io dico guardate Sonic 2 andate al cinema a vedere Sonic 2 ha allargato tantissimo il mondo anzi l'universo stanno letteralmente spalancando le porte a un universo cinematografico il terzo film è già confermato su Paramount Plus deve arrivare una serie tv live action prequel sul personaggio di Knuckles io sono contentissimo perché hanno pescato a pieni mani dai videogiochi ma anche dai fumetti dai cartoni animati le new entry Knuckles e Tails sono caratterizzate benissimo e peraltro si amalgamano veramente veramente un sacco a Sonic sono tre personaggi complimentari e il terzo atto letteralmente è uno dei terzi atti più belli dopo un secondo atto particolarmente debole un terzo atto uno dei terzi atti più belli che abbiamo visto in un blockbuster action ok il tutto condito dalle campane in sottofondo che hanno bene vengono dal mio cuore capisci ehm Matioschi facciamo zig zag io non consiglio Moon Knight e invece consiglio Halo ok vivamente tre episodi sono per ora vero? sì non ho mai giocato alla saga quindi la mia opinione è da ignorante e da ignorante la sto apprezzando moltissimo nulla di trascendentale che ti faccia strappare i capelli però molto piacevole e ti fa appassionare al mondo all'universo piano piano io sono d'accordo da giocatore della prima ora sono perfettamente d'accordo e dirò di più a me il fatto che la storia non sia la stessa sta piacendo perché così mi godo le stesse atmosfere dei giochi ma con una storia nuova quindi a lei ok Mark io consiglio infatti sono andato a prenderla questa serie animata qua che Tokyo c'è Magnitude 8.0 l'ho presa in Blu-ray perché non credo ci sia in streaming da nessuna parte adesso so che è stata su Prime Video mi hanno detto io l'ho visto che era il sconto mi intrigava la trama l'ho comprato il Blu-ray e fondamentalmente c'è un terremoto in Giappone molto forte appunto 8.0 e ci sono questi due ragazzini un fratellino e una sorellina che sono lontani dai propri genitori per un motivo che poi scoprirete e fondamentalmente tutta la trama si basa su loro che devono tornare a casa loro nel loro quartiere con una Tokyo distrutta quindi non sanno nemmeno se i genitori e la loro famiglia è viva perché non hanno neanche contatti se non uno sporadico TG ogni tanto che gli dà delle notizie e non neanche su tutti i quartieri di Tokyo solo sono alcuni e fondamentalmente fino all'ultimo vi tiene incollati ed è veramente una storia molto carina toccante e particolare ve lo consiglio se lo trovate a poco l'ho pagato 14 euro tutta la serie come film consigli anche roba tipo A Chico e Schindler's List giusto per rimanere a Chico e Schindler's List abbiamo proprio due cose molto collegate Andrea Peppa Pig stagione 7 oh stagione 7 è proprio simpatico è proprio una botta di simpatia è proprio una botta di simpatia è che si riguarda il trailer del migliore film dell'anno no è che mi hanno taggato in una storia mentre siamo in diretta volevo condividere far felici fans ma c'era la musica sotto ok volevi cosa che dicevi niente dai ho detto Peppa Pig quando Peppa inizia a guidare però non è meglio la puntata in cui scoprono cos'è il bacon no niente scusate è stata emozionante però nella serie animata Lonely Tunes Adventure che aveva un paio da sitcom cioè porchi pig che scopre di cosa è fatto il bacon e le salsicce e ciò nonostante non riesce a farne a meno di mangiare è una delle cose più cupe che abbia visto wow mamma mia oh fuck guarda anticipo anticipo Calel e dico andate a vedere Animali Fantastici 3 perché non gli avrei dato non gli avrei dato veramente un euro soprattutto dopo il 2 però secondo me è uno di quelli che vale la pena andare a vedere il cinema anche solo per l'impatto visivo Calel e mo e mo se cazzo vuoi io sto guardando questi giorni in difesa di Jacob su Apple che mi sta piacendo veramente veramente tanto Chris Evans giusto? sì c'è Chris Evans con la barba frenissimo quindi già solo per quello secondo me va visto molto atmosfera la Bradshaw perché ha a che fare con questo ragazzo questo bambino che viene trovato morto in una piccola cittadina e devono investigare la colpa il principale sospettato è il figlio di Chris Evans appunto Jacob perché lui è un avvocato e quindi è tutto incentrato su lui che deve capire cosa c'è deve cercare di difendere il figlio perché non lo accusino di questo omicidio molto molto bella mi sta piacendo veramente veramente tanto mi ha proprio preso Vic io consiglio di andare a vedere al cinema se è riuscito a trovarlo come on come on quello con Phoenix è secondo me splendido cioè veramente veramente un film della madonna e a livello seriale consiglierei anche io come Matteo Schialo anche perché stavo guardando quella non avevo ancora iniziato con la gara tocalella in difesa di Jacob però volevo volevo iniziarla quindi sul fronte seriale per il momento non ho granché da consigliare però su quello cinematografico a parte vabbè animali fantastici ok però come on come on è un film che merita di essere supportato perché è vero è praticamente Manchester by the Sea ma ha fatto molto molto bene meglio secondo me meno stracciacoglioni sì no no è un film è molto bello cioè è particolare nel senso che non è il film di intrattenimento cioè è un film comunque parla di uno zio che deve prendersi cura del nipote mentre la madre cioè la sorella di lui è affrontare una cosa brutta a livello familiare però cioè ad esempio io non capisco dove cazzo li trovino questi bambini che le girano così bene perché è una cosa impressionante bravissimo il ragazzino è mostruoso quindi da vedere secondo me se potete recuperarlo fatelo perché non è distribuito proprio in maniera straordinaria non è neanche distribuito così male quindi si trova per cui prima però è uno di quei film che ti tolgono in fretta quindi secondo me è da andare a vedere il prima possibile io consiglio invece una serie tv su apple tv plus con l'idolo del momento Jared Leto insieme a Dan Hattway che si chiama We Crash che parla di una di un'azienda realmente esistente che si chiama We Work nella quale vabbè loro fanno cose è un'azienda che affitta dei locali e li mettono in vendita tra virgolette vabbè tutta una roba comunque racconta la storia vera di questa azienda e piccola curiosità il personaggio che viene interpretato da Anne Hattway è la cugina di Gwyneth Paltrow nella realtà proprio esatto e ogni tanto la tirano fuori nella serie anche lei ha prodotto candele al profumo della sua vagina no? no di piedi direttamente di piedi ottimo ci sta è bello che ormai la ragione per cui associavo tutti Gwyneth Paltrow è la storia della sua vagina se fai una cosa così stupida ti marchierà vita per sempre giusto facciamo stordine dividiamo le descrizioni per curiosità accademica rischiette dei veri uomini non prendete quello ma ordinate andiamo direttamente da Gwyneth Paltrow fatta con il lievito vaginale di Gwyneth Paltrow esiste? buon appetito va bene e con questo direi non credo lo farò però precisamente mi stai dicendo che c'è la candida perché per forza sennò devi scoprire ma che schifo Cristo dai madonna no nel senso scusami ma quanta ne ha per farla su scala per giusto allora con queste immagini vi saluto che vado a mangiare anche io ragazzi che devo mangiare la pizza buona cena buona cena ciao ragazzi ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao ragazzi allora ragazzi spero sia andato tutto bene spero vi siete divertiti argomento morbius di oggi pervenuto per 15 minuti circa direi ottimo ottimo perché non c'era molto molto da dire però spero vi siate vi siate divertiti ora mi prendo anche tutti tutti i sabbetti che ci sono stati vi ricordo che se tutto va bene la prossima settimana lo rifacciamo con argomenti vari eccetera eccetera prossima settimana potremo parlare di più ad esempio di animali fantastici che esce questo mercoledì al cinema e tutte le varie cose che ci saranno nel corso della settimana quindi spero comunque vi piaccia l'idea di continuare a farli ci vediamo domani in stream prossimo talk show se tutto va bene lunedì 18 aprile sempre alle 18 su twitch non mancate ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scatush un po' non mancate noi ci vediamo